26, numero 28, in questo momento Thomas Schimizi dell'Alevo, è arrivato in questo momento il numero 50. Finale di gara per il numero 27, Lorenzo Mica dell'MT Bizzi della Fast Bike Enjoy the Trial. Grazie a tutti. 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 Arrivano tutti. Grazie a 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 tutti. bello di là giù se io sento giù adesso più bello ancora e allora noi andiamo allora su quando passa a passare alla donna andiamo allora mamma io non so che non ma questo è elettrico però vai vai bravi Perchè arrivi in un doc就是 i dell'esplersi lapoints scope e la campi si è cercata al canto dai bravo poi mamma li colpo spingete di più perchè è il suo è il suo dai vabbè ti devo provare la bici uuuu che spai uuuu ma la borraccia la prende si si ha bevuto si si ha bevuto si si ha bevuto si si eh che va bene che si può arrivare tutta l'ombra gli altri che partono dopo c'è la salita difficile quella difficile la piccola era un chiuso qui vai 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 Grazie a tutti. 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 Brava. Sei vinto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.